Una giornata per la terra che continua a festeggiare questa risorsa straordinaria che noi abbiamo a nostra disposizione ma soprattutto in questa giornata non ci dobbiamo dimenticare dei tanti limiti del nostro modello di sviluppo che pesa sulla terra in maniera insostenibile. Per questo è fondamentale che le sfide del futuro legate al Green New Deal ma al progetto Next Generation New siano puntati proprio nel segno della sostenibilità ambientale perché questo vuol dire aiutare la terra ma aiutare anche tutte e tutti noi a costruire un'economia diversa che tenga insieme la sostenibilità ambientale, i posti di lavoro e il futuro di quelle giovani generazioni a cui a questo punto oltre che prendere in prestito le risorse naturali stiamo sottraendo le risorse economiche.